Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di come capire dal linguaggio non verbale se un uomo è coinvolto con te. Allora, prima di affrontare questo tema, però, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, questo nuovo canale qua, Felicità e Benessere, e vediamo un attimino quindi queste caratteristiche. Allora, come si deve comportare un uomo a livello di linguaggio non verbale, quindi manifestazioni della prosemica, cinesica, paralinguistica e contatto fisico, per farti capire che è coinvolto? Allora, oppure viceversa che non è coinvolto. Se entra in contatto c'è anestesico con te, cioè soprattutto ti tocchi i capelli, ti poggi una mano sulla spalla, quindi ogni contatto c'è anestesico che manifesta, significa che si sta coinvolgendo comunque con te. Anche se, ad esempio, manifesta un toccamento, un verso questo il cuore, mentre parla magari appoggia la mano sul cuore, vuol dire che è coinvolto da un punto di vista affettivo. Se invece, mentre parla, tende a toccarsi il collo, a passarsi la mano in questo modo, vuol dire che il coinvolgimento è di natura più fisica, più sessuale, più erotica. Lo stesso discorso avviene se anziché il collo si tocca la cravatta. Io adesso non ho la cravatta, ma se continua a toccarsi la cravatta, è un significato di coinvolgimento, diciamo, nei tuoi confronti. Invece, quando si sta decoinvolgendo, ad esempio, se parla con te, vedi che guarda spesso l'orologio. Guardare spesso l'orologio istintivamente, senza neanche guardare l'ora. Cioè, ogni tanto gli va lo sguardo sull'orologio. Beh, questo ovviamente significa che se ne vuole andare, quindi che non ha un coinvolgimento nei tuoi confronti. coinvolgimento che peraltro invece si manifesta quando punta i piedi nella tua direzione. Magari guarda da un'altra parte, ma un piede almeno è puntato nella tua direzione. Questo è molto interessante perché puoi capirlo anche dall'esterno. Se invece parla con te magari, ma i piedi sono puntati da un'altra parte, significa che anche qua non vede l'ora di andarsene. Se mette le mani in questo modo, sui reni, significa che è una persona egocentrica e è coinvolto, ma ha bisogno che tu lo metta al centro dell'attenzione. Cioè, deve stare al centro dell'attenzione per essere coinvolto. Insomma, quindi questa è una caratteristica che ti dà anche un'indicazione su quello che devi fare per riuscire a coinvolgerlo. Altri segni, diciamo, di apertura sono ovviamente passare dalle braccia incrociate alle braccia aperte, dalle gambe cavallate alle gambe aperte, da chiudersi, da avere una giacca chiusa ad aprire i bottoni. Quindi tutto quello che è apertura, se avviene in sincronica risposta all'incontro con te, significa il gradimento. Stessa cosa il toccamento delle labbra. Il toccamento delle labbra e il mordicchiamento delle labbra. Le labbra rappresentano la parte, diciamo, più importante per capire se è una persona in quel volto o meno. Il labbro inferiore, il mordicchiamento del labbro inferiore, è un coinvolgimento di natura ma più affettiva. Il mordicchiamento del labbro superiore è un coinvolgimento più di natura fisica, di natura appassionale. Queste sono, mentre invece il naso rappresenta tutto ciò che è rifiuto, quindi il toccamento, il grattamento, passarsi i diti in questo modo, significa che non c'è coinvolgimento, che la persona si sta coinvolgendo. Ecco, poi devi tenere presente anche la proscenica, cioè se una persona, mentre parla, tende ad avvicinarsi, è comunque un segno di gradimento perché vuole, vorrebbe, diciamo così, superare la proscenica e quindi avvicinarsi e stabilire un contatto. Mentre invece l'allontanamento è un po' una presa di distanza. E' importante anche lo sguardo, se tende a guardare verso l'alto mentre ti parla, decoinvolgimento, se guarda negli occhi oppure verso il basso, rappresenta un segno, un segnale, diciamo, di un coinvolgimento forte. Questi sono tutti i principali, diciamo, segnali e comportamenti che a livello non verbale ti danno indicazioni utili per capire, appunto, se un uomo è coinvolto o meno con te. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al canale. Ciao!